Grazie a tutti. Mi sono messo questo, anche se so benissimo che non è la biglietta di solito, non sto così in queste situazioni. Come ti sembra che sia andata a un consultivo su questa vicenda? Tutto quello che poteva andare male è andato male, quindi direi bene. Ogni giorno è successo qualcosa di un po' peggio del giorno prima, quindi so che dire. Non ho veramente opinioni definite perché ne sono successe troppe per farsi un'opinione, al di là del fatto che l'umore generale più o meno è questo, al di là della maniera in cui si esprime e manifesta. C'è un altro appuntamento istituzionale e proviamo a fare qualche previsione del peggio a questo punto, visto che ci si prende, è del governo. Ah vabbè, il governo, che ne so, se c'è chi dice Amato, c'è chi dice Enrico Letta, ma mi sembra a questo punto quasi, no, in un dettaglio no, però vuol dire, è stato fatto tutto affinché ci fosse almeno un governo e quel tipo di governo, che era quello più in viso. Lo so bene perché effettivamente c'è tutta una parte che non vuole, che si vede meno, ma che vota. Berlusconi ha preso un sacco di voti, perché poi uno queste cose se le dimentica, non sto dicendo che, perché uno tende a rimuovere sempre questo fatto, salvo poi andare a votare e accoggersi che Berlusconi comunque 10 milioni di voti li porta a casa sempre. quindi non so se è per fare il governo col PD, ecco, magari questo no, ma non so veramente che dirti, guarda, ovviamente non era il mio augurio, ecco, io non... Grazie Diego, Zoro, senti, un, diciamo, un annuncio, dove possiamo, un'informazione per chi ci segue su LibriTV, dove possiamo vederti? E la domenica alle 23.40 su Rai3, Gazebo, una trasmissione che si chiama Gazebo. Grazie ancora. Grazie a tutti.